Uno che ci dà la carica, effetto caffè, come in questo caso, i Black Keys, ecco lì, viva! Il motoro è aperto adesso, non sai come vuole uno? Sì, sì, è un po' descritta l'ha fatto di trasferirlo, anche a buona velocità, perciò No, non c'era la cosa qui, ma non c'è, logico Assoro! Assoro! Assoro, ragazzi! Che fai? Che vedi? Che fai? Che fai? Che fai? Che fai? Balla? Ciao, ciao, ciao! Agira, agira, Radusa, Radusa! Mi consiglio, è vicino a te Di Radusa non c'è cosa, Radusa non c'è... Che... Che...